buonasera oh buonasera guarda chi c'è vai bene bene ah ma viene se vuole viene vai vado mi ha detto vai dove vado dove posso andare ma dalle mie amiche le number one sono guardale doppio number one ti spiego stasera sono postato secondo te mi tiene sveglia ahahah va bene magari lui lo prende volentieri lui lo prende volentieri eh si si buonasera ragazzi domenica ma ciao bimbe davvero ma voilà allora sono sono arrivata seconda bellissime siete bellissime guarda siete bellissime in video e io qua c'ho il mio spasimante ercole che mi manda già i cuori ciao ercole che dovevo fare ercole da torino che mi manda i cuori è uno sportibone che cammina tanto corre non lo so non l'ho visto di persona adesso lo invitiamo dai ercole vieni ci sono anche le ragazze che ti vogliono conoscere ecco è già roberto continui bisogna che lo salutiamo ciao Roby questo amico no no io no si si ma sto riprendendo la mia grazie grazie grazie